Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia un sacco di novità anche oggi per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Insomma oramai è quasi un giorno che abbiamo scaricato la nuova patch la 8.11 Sicuramente avrete capito tutti gli aggiornamenti che ci sono stati sono tornate addirittura le granate ad impulso e hanno veramente fatto delle modifiche non indifferenti sia al gameplay che ad alcuni dettagli sulla prestazione. Nel video di oggi ragazzi parleremo però di alcuni trucchi anzi di un trucco particolare che si può fare con la nuova pistola la FLINT PISTOL tanta tanta roba per questa nuova arma ne avremo modo di discutere per qualche minuto per qualche secondo nel video parleremo anche della nuova skin delle armi come sapete quando c'è un update generalmente viene sempre inserito qualcosa che poi verrà rilasciato nei prossimi giorni e questa volta è proprio il caso di una nuova skin ci saranno anche ovviamente ragazzi le Heli News che come vi avevo già anticipato non mancheranno per tenervi sempre aggiornati su quello che sta succedendo nella mappa di Fortnite mentre siamo tutti concentrati a cercare i tesori intanto ragazzi vi voglio ringraziare davvero di cuore per utilizzare il mio codice CREATOR XIUDERONE grazie di cuore per il mega sostegno mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima ragazzi la domandina raga dai ve la devo fare la domandina ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qua sotto mi raccomando e la domandina di oggi è molto semplice come ti sembra la pistola a focile quindi la nuova arma come l'avete trovata come la state trovando vi sembra forte non vi piace hanno fatto bene a metterla diteci un po' ragazzi ditemi un po' qua sotto nei commenti a me personalmente non dispiace non l'ho ancora capita benissimo perché non ho mai tempo di godermi le armi se non dopo 2000 partite ma voglio sapere invece a voi come vi sembra sotto qua i commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a spendere due secondi parlando appunto della pistola a focile lo sappiamo tutti la troviamo in due rarità comune non comune sappiamo già quanto toglie sappiamo tutto sappiamo anche che questa pistola ragazzi ha una particolarità che non si è mai vista in un'arma di fortnite il rinculo non so se l'avete visto ragazzi o sulla mia pagina instagram o attraverso qualche sito voglio farvi vedere questo era il trailer tra virgolette ufficiale della pistola e come vedete c'è un cuore nero che prepotentemente a pinnacoli spara su una ignara banana e come vedete ragazzi il rinculo è assolutamente assurdo talmente forte da mandare il giocatore sul tetto di un altro edificio beh ragazzi tutti i player non hanno atteso molto e guardate un pochettino cosa si riesce a fare guardate questo giocatore ragazzi che cavolo fa con la pistola lo stanno pushando e allora lui molto semplicemente prende la pistola spara in basso e gli spara un 160 tra un colpo di cecchino e un colpo di pump che è veramente devastante potete utilizzarla come vero e proprio trampolino di lancio anche perché ragazzi non dovreste non andrete tantissimo in alto e questo vi permetterà in poche parole di evitare anche di subire un danno da caduta quindi mi raccomando tentate di utilizzarla anche per terra datevi uno slancio e perché no magari riuscirete a fare una grande kill ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un altro argomento super interessante relativo ovviamente alla patch conosciamo tutti questa skin è la skin punto di rottura molto bella come skin apprezzo tanto anche il backpack ve lo ricordate il backpack creativo che segna i danni totali che facciamo durante le nostre partite già ragazzi due update fa avevamo ottenuto la possibilità di togliere se non ricordo male la maschera si la maschera al punto di rottura e quindi giocarlo avviso scoperto beh ragazzi sembrerebbe che tra pochissimo arriverà questa nuova skin per le armi si chiama rivet come colorazione come vedete è una camo militare azzurrina grigina bluina insomma ragazzi con una bordatura dorata sembra che venga data ai possessori della skin punto di rottura ma io voglio fare di più ragazzi e voglio farvela vedere in game come vedete bellissimo il grigio non si è capito bene perché gg per il grigio non si sa eccola qua ragazzi direttamente dai leakers mondiali arriva di già la possibilità di vederla in gioco non è brutta non è niente di che ma non è neanche così brutta dai il barret è carino blu e oro insomma ragazzi un'altra nuova skin per le armi molto probabilmente se le collezionate come me da ottenere e da avere assolutamente ma andiamo avanti ragazzi e vi voglio portare un attimo nel passato ve lo ricordate dai il re della tempesta season 6 ultime settimane della season 6 uscì la possibilità di combattere su save the world il re della tempesta vi ricordate ragazzi qual era il premio per i giocatori che riuscirono a batterlo esatto sono arrivate finalmente ci sono voluti mesi ma qualcuno ha finalmente iniziato a ricevere le spille ufficiali di Fortnite edizione super limitata che venivano date solamente a chi aveva battuto il mostro quindi ragazzi una news per chi magari la stesse aspettando stanno cominciando ad arrivare ma andiamo avanti fa 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 la heli news fa 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 le heli news ragazzi cosa succede questa ragazzi è un tracciato nella mappa del percorso che l'elicottero ha fatto e sta tuttora facendo partiva da sprofondo stantio arrivava nella parte alta della mappa tra la laguna languida e la città quella degli azzechi i scalini scatenati si è spostato poi sulla parte più esterna vicino a rifugio andando poi dopo il circuito ed ecco qua ragazzi l'ultima location quindi la posizione dove adesso troveremo l'elicottero non è altro che parcheggiato sulla montagnola vicino al track and oasis quindi il distributore di benzina che è presente nel deserto di fortnite ancora non sappiamo assolutamente nulla sulla funzionalità di questo elicottero né perché si sta spostando né di chi sia ma ovviamente tutto quello che riguarda l'aggiornamento sull'elicottero io ve lo dico ogni volta che posso ma andiamo avanti e concludiamo ragazzi parlando un attimino di questo edificio molto molto interessante questo edificio l'avete già visto in realtà in questo video fa parte di quel mini trailer della pistola a focile e questo ragazzi è il nuovo edificio di pinnacoli completato quindi viene in poche parole vagamente spoilerato nel video che avete visto all'inizio ed eccolo qua ragazzi sapete edificio di pinnacoli che in ogni season teatro di disgrazie vuoi che siano le crepe che lo distruggono vuoi che sia il meteorite che lo distruggi insomma una parte divertente della mappa che a tutti fa piacere vivere avere e ovviamente perché no continuare a vedere un po quello che succederà beh ragazzi io direi che per oggi le news sono davvero terminate voglio davvero ringraziarvi in tanti a tutti in tantismi no a tutti per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale codice creator xuderone noi ci vediamo alle 13 live e oggi ci sono le sfide ciao ciao